Evitare che con i prossimi acquazzoni possano ripetersi problemi simili all'ospedale di Cava dei Tirreni dopo l'infiltrazione d'acqua a rianimazione che ha costretto a trasferire precauzionalmente di invia temporanea due pazienti in altri reparti, l'azienda ospedaliera universitaria Ruggi, della quale fa parte anche il Santa Maria dell'Olmo, ha subito inviato apposite squadre di pronto intervento per individuare e risolvere il problema legato ad una colonna pluviale ed un pozzetto in corrispondenza di una porta. Un'infiltrazione verificatasi tra l'altro poche ore dopo l'invio di una nota del direttore generale Longo che aveva rassicurato sul futuro degli ospedali di Mercato San Severino e Cava annunciando interventi per l'organico e l'avvio nell'ospedale metelliano della progettazione per il pronto soccorso e rianimazione. Una serie di lavori che saranno illustrati martedì prossimo in occasione di una visita al Santa Maria dell'Olmo per consegnare un macchinario a pediatria insieme con il direttore sanitario Maiorino che si è occupato del problema infiltrazioni. Era stato segnalato e avevamo già predisposto una sanificazione di quelle che erano le condotte idrauliche e malgrado ciò purtroppo il problema si è ripresentato ma c'è stato anche in questo caso l'immediatezza dell'intervento da parte dell'ufficio tecnico sotto la regia della direzione strategica nella sua interezza che ha immediatamente fatto in modo da risolvere la criticità che si era di nuovo manifestata e soprattutto ci ha permesso anche di capire qual è l'origine dei problemi e di procedere già da oggi sono in corso dei lavori in modo da eradicare completamente il problema e non farlo più ripetere e dare quindi un contributo diciamo risolutivo definitivo al problema. Ieri il direttore generale Longo aveva ribadito insomma rispondendo un po' ad alcune polemiche dei sindacati della stampa sul fatto che sia Cava che Sanseverino non sarebbero stati giusi anzi che sarebbero stati potenziati si parlava sia del personale per quanto riguarda Cava proprio si avviava la progettazione per il pronto soccorso e per la rianimazione. Sì ne abbiamo già discusso prima a dire la verità quindi avevamo già impostato questa nuova modalità rispettando quelli che sono gli indirizzi regionali a cui dobbiamo attenerci e che vogliamo adempiere naturalmente. È chiaro che un progetto che vede una riorganizzazione delle attività che riguardano il pronto soccorso e la rianimazione è a latere ma non è a latere perché nel processo anche della radiologia vede una completa rivisitazione di quelle che è l'organizzazione degli spazi per determinare quel livello di assistenza previsto dalla normativa e che per cui dobbiamo adempiere rispettando anche la 7301 che è la normativa appunto degli accreditamenti per le strutture sanitarie. Quindi il pronto soccorso e la rianimazione e la radiologia saranno oggetto di interventi di ristrutturazione in modo da permettere una migliore qualità dell'assistenza come in conformità alla normativa.